E' a noi Fabrizio Sai che pensavo Alberto? La frequenza di questi matrimoni tra cungini non favorisce la bellezza della razza. Eccole là. Sembrano scimmiette pronte ad arrampicarsi in cima ai lampadari. E da lì sono spese per le code d'ondolarsi esibendo i deretani. Maria, vuole fare un passo? Maria, ma che fai? Ma che fai? Maria, ma che fai? Maria, ma? Maria. Maria, ma che fai? Grazie a tutti.